Cammino difficile per la proposta di legge presentata dai consiglieri Diego Bottacin, Giovanni Gallo e Gianpietro Marchese del PD e Vittorino Cenci e Federico Caner della Lega Nord, che prevede la liberalizzazione dell'orario di apertura delle 1200 farmacie venete, stabilendo un minimo di 40 ore settimanali e lasciando ogni altro adempimento, ore e giorni di apertura e chiusura, periodi feriali, all'autodeterminazione dei singoli esercizi. Nonostante la proposta sia stata licenziata all'unanimità dalla Commissione Sanità, sta emergendo tra le forze politiche più di qualche ripensamento. Hanno già espresso parere contrario il consigliere di Progetto Nord-Est Mariangelo Foggiato e i due consiglieri del PDL Raffaele Zanone e Pier Giorgio Cortelazzo, preoccupati che la liberalizzazione possa danneggiare le farmacie dei piccoli centri rurali e di montagna. La stessa Lega, che pure annovera due sottoscrittori della proposta, non sembra più tanto convinta della bontà del provvedimento. Confermano invece il loro sì gli esponenti del Partito Democratico.